Subito dopo l'accaduto, stiamo parlando del 9 giugno del 2018, mia sorella ritornò a casa, segnata in volto, lacerata, ricordo che era completamente arrossata, pose lo zaino violentemente vicino la porta d'ingresso, si diresse nella sua stanza, si chiuse a chiave, saltò il pranzo. Tutti noi non riuscivamo insomma a comprendere il motivo di questa reazione e non mi confidò immediatamente l'accaduto. Alla fine lei trovò il coraggio di aprirsi, io mi ricordo proprio queste vivide confessioni, mi sento sporca. Subito dopo aver avuto un quadro completo richiesi immediatamente un appuntamento a scuola dalla dirigente. E quante mail ha inviato alla dirigente? Ne ho inviate di diverse, ne ho inviato innanzitutto una il 27 giugno del 2018. Durante quel primo incontro cosa le ha detto la preside? Allora durante quel primo incontro ha detto che se ne sarebbe occupata lei, l'ha detto in modo deciso e vigoroso, anzi in un modo tale che ci ha dato speranza. Sapevamo che il docente era stato allontanato in attesa poi di indagini ulteriori. Allontanato dove? Alla fine noi scoprimo che fu allontanato semplicemente di un plesso. Che aspettavate però che la dirigente scolastica denunciasse questo professore? Ci aspettavamo e ne eravamo certi anche perché in risposta ad una mia email di ringraziamento per la tempestiva presa di posizione della dirigente, lei disse testualmente che non solo la promessa di prendersene, diciamo, di prendere l'impegno a risolvere la faccenda, a vederci chiaro, era stata mantenuta, ma aggiunse che si era andati anche oltre. Un andare oltre che poi in realtà si dimostrò essere semplicemente una bolla di sapone, perché era un andare oltre che progressivamente si è trasformato dapprima in un spostamento di plesso, dopodiché in uno spostamento di classe e infatti mia sorella se lo ritrovò nella classe di fronte, ogni volta che mia sorella lo intercettava, lo incontrava, questo si trasformava in un riacutizzarsi della ferita. Cosa vorrebbe dire alla dirigente scolastica che non ha preso provvedimenti? Come mai non si è rivolta immediatamente agli organi preposti? Se lei si fosse rivolta agli organi preposti, tutti noi saremmo stati interrogati, saremmo stati convocati, mia sorella sarebbe stata ascoltata, sarebbero state interpellate anche le altre ragazze, tutto ciò non è accaduto, quindi questa è la prova concreta e definitiva, oltre che lampante, che la dirigente perlomeno non ha interpellato le forze dell'ordine, quindi la magistratura non è mai intervenuta.